Sapevate che Corso Francia è il corso rettilineo più lungo d'Europa? Una delle principali arterie di Torino, che collega con Rivoli passando da Collegno, è lunga complessivamente 12,47 km, anche se alcune fonti la limitano a 11,75 km. La sua costruzione risale alla volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia, che la ordinò da Chamberix nel 1711. Nel 2011, per celebrare i 300 anni della sua realizzazione, si decise la pubblicazione di un volume e si realizzò una mostra, che in questi giorni è stata nuovamente esposta nell'atrio della sede comunale a Rivoli. L'aveva ideata l'allora consigliere provinciale rivolese Giuseppe Sanmartano, con la collaborazione della giornalista Elisa Zunino, dopo un'approfondita ricerca. La strada reale di Francia, documenti e immagini sui 300 anni di Corso Francia, è composta da 11 pannelli autoportanti che ricostruiscono la storia del corso, dalle origini fino alla realizzazione della linea 1 della metropolitana, il cui prolungamento da Collegno a Cascinevica di Rivoli è in fase di completamento. A proposito di curiosità, sapevate che durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa dell'entrata in guerra dell'Italia contro la Francia, il corso cambiò nome e divenne Corso Italia? Ovviamente, dopo la fine delle ostilità, l'intero corso tornò al nome originale. Il sindaco di Rivoli e consigliere di città metropolitana di Torino, Andrea Tragaioli, ha accolto con piacere la proposta di esporre i pannelli del 300esimo anniversario. Se volete approfondire una pagina di storia locale, potete visitare la mostra in Comune a Rivoli fino al 18 novembre.